E' la prima semifinale di questa edizione dell'Inghe Callen. Di fronte ci sono Angolo del Caffè, Agricola Terella e Top Dancing, le due squadre che sono riuscite ad arrivare fin qui guadagnandosi questo diritto. Adesso c'è la prima azione della partita, è subito un pericolo con questo tiro di Padurrario che Cardioc ha deviato molto bene di piede, poi il contropiede da parte della formazione in maglia arancione con il destro da parte di Campagna che termina però abbondantemente fuori, Campagna molto ispirato in avvio da questo pallone a Rosati che calcia sul secondo pallo ed è bravo in questo caso il portiere Franchini a deviare il pallone nel calcio d'angolo e poi questo pallone conquistato a centrocampo da Daniel Pansario che dà ad Alexander Bulbuaca che spreca così una grande chance per la squadra di Angolo del Caffè, Agricola Terella che sembra però aver iniziato meglio la partita. Adesso c'è Padurrario che ci prova con questo destro raso terra ma Cardioc di piede gli impedisce la segnatura e a questo punto però si sveglia anche la squadra della Top Dancing con questa azione da parte di Marco Terenzi che non è riuscito però a segnare con questo intervento da parte del portiere Franchini e adesso invece la volta della squadra in maglia blu. Angolo del Caffè, Agricola Terella che prova con Alexander Bulbuaca, ottima però la risposta da parte di Cardioc in uscita e la partita si mantiene sui binari dell'equilibrio praticamente fino al termine del primo tempo, manca qualche secondo ma guardate che scaldabagno che ha partorito Petitti una sentenza un destro di terrificante potenza che si è andato praticamente ad agiare sotto il 7 nel secondo palo ma dove era il portiere però Franchini? Era dietro la barriera e non poteva sicuramente prendere questo pallone, adesso però prova ad agire nella ripresa subito la formazione in maglia blu con questo gol un po' fortunoso di Bodgan Bulbuaca che ha ricevuto sul lato di destra da Cracium e ha battuto con un tiro sporco il portiere Karpiuk, beffato dalla traiettoria vrenosa del pallone. Pareggio dunque da parte di Agricola Terella, angolo del Caffè ma top dancing però sembra averne di più, sembra più determinata, più briosa, ha più dinamicità appunto in zona gol e subito trova il vantaggio con questa azione un po' anche fortunosa. 2-1 dunque che poi diventa 3-1 con questo gol di Bacoli, in precedenza aveva segnato per la squadra in maglia arancione appunto Campagna dunque 3-1 con questo gol di Bacoli che ha ricevuto palla da Pinna sull'out di sinistra ed è stato per lui un gioco da ragazzi trasformare il gol del 3-1, poi c'è questa conclusione grande parata, doppio intervento da parte del portiere Karpiuk che si riscatta parzialmente dal precedente piccolo errore commesso sul gol incassato, poi guardate Piovesan, lascia sul posto il proprio avversario con una finta spettacolare, poi un telecomando al posto del piede, un sinistro perfetto che muore proprio sotto l'incrocio dei pali, grande gol e praticamente questa rete segnerà la fine dal punto di vista agonistico di questo match, ci sono infatti adesso 3 gol differenza fra top dancing e angolo del caffè Agricola Terella che poi però comunque generosamente ci prova a buttarsi in avanti e segna anche il gol del 4-2 con Alexander Bulboaca che da due passi non poteva fare altro che mettere dentro, però la prestazione della formazione in maglia blu non è all'altezza della precedente partita disputata nei quarti di finale contro Corrato Carelli e Levatori, è sicuramente meno intensa la squadra appunto di angolo del caffè Agricola Terella che poi subisce anche il gol del 5-2, anche in questo caso non ci sembra che Rosati volesse colpire in questo modo il pallone, infatti mima anche cosa avrebbe voluto fare, comunque il risultato è che il pallone è comunque terminato in fondo al sacco 5-2, dunque top dancing che vola in finale di questa manifestazione, una finale che ha meritato per tutto quello che si è visto in questo match per la superiorità espressa soprattutto nel secondo tempo